Altro giro, di nuovo Coppa Italia dilettanti. Torna la competizione che al pari del campionato di eccellenza mette in palio seppur attraverso un percorso nazionale. La promozione in Serie D dalla porta principale. Torna con le gare d'andata del secondo turno. 14 le società ancora in corsa, 12 in campo domani pomeriggio. Non Biceglie e Molfetta, le protagoniste dell'abbinamento probabilmente più intrigante. Il primo atto tra le due realtà adriatiche infatti è stato posticipato di sette giorni e si giocherà giovedì 12 ottobre al Ventura. In campo domani invece l'Unione Calcio Biceglie che inaugura cronologicamente il programma a partire dagli ore 14.30 affrontando in trasferta la nuova spinazzola. Il derby della batta va in scena sul sintetico del vicino di Gravina. Su tutti gli altri campi invece si parte alle ore 15.30. Il Polimnia, protagonista di un eccellente avvio di campionato nonostante la sconfitta di domenica scorsa nel domicilio della Virtus Mola, ospita l'Arboris Belli nell'unico abbinamento tra formazioni appartenenti a gironi diversi in campionato. Derby della provincia di Foggia invece tra San Severo e Foggia in Cedit in scaletta sul sintetico del Ricciardelli. Tutte in contemporanea, sempre alle ore 15.30. Le partite di ritorno si giocano invece a campi invertiti giovedì 19 ottobre. Tutti gli abbinamenti sono sulla distanza dei 180 minuti. Il gol in trasferta conta allo stesso valore delle vecchie competizioni europee e può fare la differenza nei giochi qualificazione.